Dottoressa Donadini, sono partite delle lettere per invitare la popolazione a questo screening gratuito. Ci racconti a chi sono state indirizzate, che cosa contiene la lettera e cosa devono fare le persone? Sì, le lettere sono partite da pochi giorni, quindi nei prossimi giorni arriveranno ai cittadini residenti nel nostro territorio di ATS in Subria che sono nati tra il 1969 e il 1989. Naturalmente è una lettera che vuole sostenere l'adesione ad uno screening molto importante che è quello per l'epatite C da virus HCV. È una patologia diffusa e in questa fascia di età soprattutto è presente molto spesso in modo silente, quindi non diagnosticata e non conosciuta dal paziente. Pertanto è importante aderire a questa iniziativa, ci si reca presso uno dei punti prelievi aderenti allo screening e sono reperibili sul sito di ATS in Subria nella pagina dedicata e ci si reca senza appuntamento peraltro e senza necessità di impegnativa da parte del medico. Verrà attuato un semplice prelievo del sangue rutinario e nel giro di pochi giorni verrà eseguita l'analisi per la ricerca degli anticorpi contro il virus dell'HCV. Qualora questo test di primo livello fosse positivo non bisogna allarmarsi perché in molti casi si tratta semplicemente di anticorpi che sono relativi ad un'infezione contratta ma eliminata naturalmente e spontaneamente. A questo punto quindi soggetti positivi verranno contattati dal centro di secondo livello ospedaliero dei nostri ospedali del territorio quindi da specialisti di malattie infettive e gastroenterologi e patologi che procederanno ad un secondo test più specifico che è il test RNA per l'HCV che ci dirà se l'infezione invece non è soltanto un'infezione trascorsa e ormai non più presente ma se si tratta invece di un'infezione attiva in atto seppur latente. In questo secondo caso il soggetto verrà preso in carico sempre gratuitamente e potrà eseguire gli accertamenti, gli approfondimenti e soprattutto iniziare la terapia con i farmaci di ultima generazione che abbiamo a disposizione antivirali specifici per l'epatite C, per il virus dell'epatite C che sono caratterizzati da un'altissima efficacia oltre il 95% dei soggetti in fase precoce di infezione possono guarire completamente eliminando il virus.